Non è che c'è molto da dire, chiaramente Ciano Iesi ci ha sovrastato in tutto, soprattutto nell'intensità, nella voglia. Mi dispiace solamente che abbiamo promesso, visto che comunque eravamo fuori da qualsiasi obiettivo nelle ultime tre partite, di dare un'immagine della nostra squadra che non molla e di onorare al meglio il campionato. Sicuramente oggi non l'abbiamo fatto, siamo entrati in campo scarichissimi, pur con tutte le promesse che ci eravamo fatte, invece di avere di dovere qualcosa, anzi molto, alla società, ai nostri tifosi. Purtroppo scaturita una bruttissima partita, un po' lo specchio del nostro campionato, anche se devo dire che il nostro campionato non ha tutto da buttare, perché per un certo periodo sicuramente non ci ha girata bene, pur fornendo delle buone prove. Chiaramente finire così a me sinceramente non mi piace, però vorrei dare anche dei meriti a Iesi che oggi veramente ha messo un'energia incredibile, poi vabbè, anche una precisione al tiro, diciamo, non voglio dire inusuale, ma una bella percentuale al tiro. Perciò è chiaro che noi non abbiamo avuto l'energia per controbattere questo stato di forma di Iesi e sinceramente sono contento del mio amico Maurizio.